Ciao sono Bogdan, oggi parliamo di Gianluca Vacchi, finalmente faccio questo video nel senso che io solitamente faccio dei video, parlo di business, investimenti, riuscita personale e quant'altro da qualche anno ho ficato il naso di tutte queste situazioni qua quindi mi piace parlare anche di persone di successo e quant'altro ogni tanto estraggo delle clip, delle idee, delle frasi dai video che faccio e semplicemente li carico come shorts ok, qui su youtube cosa è successo? Che parlando in un video specifico, ossia se non sbaglio è gli italiani amano i soldi ma odiano i ricchi ho parlato per qualche minuto di Gianluca Vacchi quindi ho estrapolato in quella circostanza una frase, 30 secondi, non mi ricordo e ho caricato uno short per questo personaggio molto discusso in Italia e non solo solitamente il mio canale è piccolino, parlo in una nicchia particolare quindi business, investimenti, crescita personale, network marketing perché stiamo sviluppando una rete in Italia e quindi le visualizzazioni ovviamente non posto cose di gattini che vanno virali o scemenze, balletti eccetera quindi solitamente gli shorts hanno che ne so 200 visualizzazioni, 300, 400, 500 dipende lo short in particolare di Gianluca Vacchi in cui ne parlavo abbastanza bene quindi delle notte positive ha avuto ad oggi una cosa come 18.000 visualizzazioni, un sacco di commenti, un sacco di insulti eccetera quindi ho detto perché non fare un video dedicato specificatamente a questo personaggio perché effettivamente tantissime persone lo conoscono, tantissime persone lo maledicono perché appunto dicono che è un figlio di papà, perché ha tutti quei soldi, perché è appunto di famiglia molto ricca che è stato allontanato dall'azienda di famiglia, gli hanno dato 5 milioni all'anno per levarselo dai piedi quindi lui fa vedere ovviamente una cosa che all'italiano medio non piace quindi balletti in piscina, yacht che non fa nulla dalla mattina alla sera e tutti quanti a dirgli ovviamente brutto balordo, grazie al cavolo che tu sei lì in piscina io lavoro 10 ore al giorno perché appunto c'è i soldi del papà quindi oggi volevo fare un recap della vita di Gianluca Vacchi quindi se effettivamente sono tutte cose vere, fondate oppure sono cose che la maggior parte delle persone legge qua e là su magari giornaletti poco seri eccetera quindi parliamo un po' di Gianluca Vacchi cosa fa nella vita, cosa ha fatto nella sua vita se effettivamente tutto quello che guadagna è il denaro della famiglia, lo sta sperperando ce ne sono di argomenti da trattare quindi mi sono, ho qua davanti il pc quindi ho degli appunti quindi lui nasce nel 1967 a Bologna lui dice di essere, quando dico lui dice di essere perché mi sono informato ho visto dei video di personaggi noti, meno noti che parlano di lui non lo dico tanto perché secondo me è così lo dico in base a, anche quando parlerò magari delle cose societarie perché ci sono scritte nei bilanci eccetera quindi non è che me le invento, sono così e basta quindi lui, lui stesso, sua madre e tutte le persone che lo conoscevano fin da piccolissimo dicevano appunto che era un ragazzo timidissimo io solitamente faccio delle interviste a persone di successo che partono da zero perché la maggior parte delle persone che hanno successo anche a livello economico il successo non è inteso come valore assoluto, parola assoluta, totale ognuno ha la sua idea di successo ognuno ha delle aree della vita in cui può avere successo beh, in questo caso parliamo del successo ovviamente economico, monetario eccetera dicevo io faccio solitamente l'intervista a persone che reputo io di successo anche coetanei miei che stanno scalando quello che stanno facendo eccetera qua possiamo dire che lui non è partito da zero la sua famiglia era piuttosto benestante lui sostiene che non erano ricchi però comunque erano piuttosto benestante padre imprenditore eccetera fin da piccolissimo appunto lui aveva questa timidezza assoluta per combattere questa timidezza lui usava l'agonismo quindi qualsiasi cosa che faceva la doveva fare meglio degli altri meglio degli altri, più veloce degli altri eccetera lui è appassionato fin da piccolissimo di sci il suo primo maestro di sci l'ha avuto a sei anni quindi era talmente bravo a sciare che metà della famiglia si trasferisce a Cortina ok? quindi effettivamente non proprio una famiglia comune ok? quindi si trasferisce con la madre a Cortina perché lui effettivamente deve fare tutte queste gare di sci e lì conosce anche degli sciatori che poi diventeranno professionisti tra cui Ghedina che era appunto di Cortina quindi crescono assieme Ghedina stesso dice che lui aveva una mentalità vincente fin da quando aveva 8-10 anni di fatto tra tutte le persone che parlano di quando lui faceva appunto questa specialità dicevano che lui era il più forte sciatore in Italia della sua categoria quindi quando aveva 10 anni, 8 anni, 12 anni era il più forte in Italia ad andare sugli sci nonostante ci siano a quell'epoca dei sciatori che poi diventeranno professionisti lo stesso Ghedina dice che lui è stato battuto tantissime volte da Davacchi perché era veramente impressionante soprattutto a livello di mentalità e questa cosa appunto poi gli servirà poi nel corso della sua vita per tutto quello che faceva a tal proposito appunto Ghedina e i compagni incazzati neri perché diceva ma guarda te questo da Bologna arriva noi siamo tutti di qua chi dal Sud Tirol, dal Trentino, dalla Valle d'Aosta noi di Cortina e questo viene qua ad ammazzarci di legnate sugli sci fino a che Vacchi si rompe le palle e ha mi sembra 15-16 anni dice basta non c'è più voglia di sciare mi sono rotto le palle glielo dice a suo padre gli dice papà io mi sono rotto le palle di andare a sciare mi sento che devo dare una mano alla famiglia quindi a iniziare a ficare il naso in quello che state facendo voi a livello imprenditoriale questo ha 15-17 anni a quel punto il padre è contentissimo perché effettivamente la famiglia era divisa il padre ovviamente lavorava per la maggior parte del tempo saliva nel weekend a Cortina quindi erano sempre divisi quindi la famiglia si riunisce il padre così come dice Vacchi è sempre stato un uomo di caserma quindi qualsiasi cosa lui Gianluca Vacchi diceva per il padre era no lui stesso dice che tutte le cose che gli chiedeva il padre lui ha sempre 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 ricevuto no suo padre non gli ha detto sì mai una volta non lo assecondava per niente faceva con lui una guerra totale su ogni situazione ogni cosa era una guerra e un no fisso da parte sua fino a che lui gliel'ha detto io ti dirò continuamente no ti metterò i bastoni tra le ruote in tutto quello che farai nella vita fino a che non andrai all'università e ti laureerai in economia e commercio se non mi sbaglio quindi lui ovviamente si laura il giorno della laura il padre poi effettivamente lo lascia in pace e gli dà le redini di quella che è tutti gli interessi familiari grandi o piccoli che siano quindi non ci mette più becco e dice ok quello che dovevi fare il tuo l'hai fatto e adesso sono cazzi i tuoi cosa succede a questo punto perché è il punto di svolta della vita di Vachy a 24 anni lui ha la brillante idea di focalizzarsi su un'azienda che la famiglia aveva in portafoglio quindi la famiglia aveva il 52% se non mi sbaglio di un'azienda che nessuno si filava la maggior parte dei familiari snobbava questa azienda qua lui ci ha visto lungo ok questa azienda qua è la Ima lui cosa ha fatto? a 24 anni lo ripeto si indebita fortemente ha preso tutti i soldi che aveva ha chiesto in prestito dei soldi è andato dai parenti e gli ha detto io voglio le vostre quote di questa azienda perché secondo me fa il botto questi qua chi si chi no chi su di giù la maggior parte gli hanno venduto le quote ok lui si è indebitato ripeto fortemente a 24 anni ok poi è stato chiuso in casa la casa che si vede nei social quella di Bologna praticamente la villa di Bologna è la casa storica della famiglia Vachy quindi acquistata dal padre lui è sempre rimasto là e dice che la casa l'ha chiamata l'eremita perché lui ha passato quasi dieci anni della sua vita all'interno di quella casa perché era pieno zeppo di debiti e non sapeva come uscirne l'unica cosa a cui pensava notte e giorno era come ripagare nel più breve tempo possibile tutti i debiti che aveva accumulato per acquisire le quote di questa società a questo punto io già mi fermerei e dico che non è cosa da tutti a 24 anni indebitarsi fortemente per un'idea che hai per una visione di un'azienda che pochi si filano e tu punti tutto quello che hai e quello che non hai perché appunto ti indebiti su qualcosa che solo tu vedi promettente e la maggior parte delle persone poi vedono sempre la fine delle cose ma su questi punti che bisogna ragionare ok? quindi poi all'età di 33, 34, 35 anni lui prende e comincia a uscire di casa all'età di 33 anni perde il padre il padre ovviamente gli lascia parte del patrimonio non ho trovato nulla in merito ma così da quanto ho capito anche di persone che lo conoscono io tendenzialmente cerco di frequentare persone di successo imprenditori eccetera quindi conosco anche delle persone seguo delle persone che hanno frequentato Gianluca Vacchi quindi qualche informazione ce l'ho in particolare da quanto ho capito il padre gli aveva lasciato 3 milioni di euro ok? e anche qua ecco vedi gli hanno lasciato 3 milioni grazie al cavolo se mi lasciano a me io vorrei fare un giochino con le persone che fanno questo ragionamento e prendete un bel foglio ok? scrivete 3 milioni e mi dite cosa ci fate per fare diventare quella cifra ascoltate bene 100 volte tanto perché attualmente il patrimonio di Gianluca Vacchi e lui stesso lo dice perché ovviamente avendo delle quote azionarie non è facile neanche quantificare perché ovviamente ci sono i prezzi delle azioni che oscillano comunque in linea teorica il patrimonio attualmente in mano a Vacchi è di 300 milioni ok? quindi ha fatto un per cento ora vi voglio vedere a voi fare una lista di cose di operazioni di compravendite di proprio cose operative da fare per trasformare 1, 2, 3 milioni in 100, 200, 300 voglio proprio vedervi ok? quindi lui gli lascia questi questi milioni in pancia e lui li fa fruttare grazie alla sua mentalità grazie alla sua visione che aveva nelle cose e appunto riesce a farci il per cento lui stesso dice che ha lavorato in 12 settori diversi ha quotato 4 società 3 da azionista e 1 da consulente se sentite se andate a vedere le interviste di persone di successo imprenditori persone note anche del del panorama televisivo eccetera parlano tutti tutti estremamente bene di Gianluca Vacchi in maniera estremamente professionale a livello imprenditoriale perché lui è da tutta la vita che fa l'imprenditore quindi da quando aveva 24 anni che fa l'imprenditore adesso ne ha 55 56 quel che sia e questo è quanto quindi la maggior parte dei dei guadagni che ha ovviamente deriva da quell'intuizione che lui ha avuto a 24 anni acquisendo appunto delle quote societarie della IMA ma che fa sta IMA tu mi dirai allora la IMA è un'azienda che produce macchinari per il packaging è la numero uno al mondo per quanto riguarda ad esempio confezionamento delle bustine da te la numero uno al mondo ha 6.000 dipendenti un fatturato di quasi 2 miliardi di euro Gianluca Vacchi ha il 55% di una società una holding di famiglia la quale ha il 14% della IMA quindi lui all'incirca parole povere spicce ha circa il 7% di questa azienda miliardaria ok ovviamente tutti gli anni gli staccano i dividendi lui ha tipo mi sembra 6 6 milioni quasi 7 milioni di azioni se staccano che ne so 2-3 euro a dividendo fate in fretta i calcoli e ogni ogni volta sono 14 15 16 a 7 milioni l'anno che lui si porta a casa da diversi anni ok la scalata dell'azienda è iniziato mi sembra negli anni 2000 con 40 centesimi a dividendo quindi poi a salire ovviamente poi è salito anche il valore delle azioni e lui facile da capire è diventato la persona col patrimonio che ha nell'azienda ovviamente lui ha un ruolo da consigliere lui stesso dice io ho per mia scelta non ci metto mano a livello operativo non me ne frega niente a capo dall'azienda c'è il cugino il cugino stesso dice che Gianluca Vach non è non è stato allontanato dalla famiglia dall'azienda per i suoi balletti eccetera anzi è stato decisamente brillante ai tempi ad acquisire a indebitarsi per acquisire appunto tutte le quote societarie di questa azienda e da lui da quando aveva appunto 24 anni è nato l'azionariato che c'è adesso di questa azienda quindi parole decisamente positive da parte del cugino e il cugino punta un attimo la questione legato al rischio dice non tutti avrebbero fatto i rischi che ha fatto il suo rendimento il rendimento che Vach ha avuto durante gli anni è frutto anche dei rischi che si è preso quindi tu se non rischi nulla ovviamente non ti porti a casa nulla io l'ho conosciuto Vach ovviamente per i social non sapevo cosa facesse lo vedevo sempre spesso e volentieri con calciatori eccetera poi anch'io di primo impatto ho detto vabbè un coglione che si fa i balletti eccetera ma ficcando effettivamente il naso in quello che ha fatto e sta facendo proprio scemo non è ok anche se ripeto la maggior parte delle persone pensa che sia esclusivamente un figlio di papà che si è arricchito e ora non fa nulla dalla sera alla mattina eccetera non è proprio così tra l'altro lui aveva acquisito delle aziende nel frattempo che sono state legate anche al crack parmalat last minute tour quando c'è stata la bancarotta eccetera e lui è stato appunto accusato di bancarotta eccetera dopo 18 anni è stato assolto e anche qua mi immagino le solite cose che dicono eh vabbè con tutti i soldi che c'hava chissà chi avrà pagato per farsi scagionare tutte le accuse eccetera vabbè comunque questo era un po' il succo di quello che Evacchi ha ovviamente lui a 50 anni se ne esce fuori dicendo che avrebbe iniziato a fare il dj e le sue serate da quanto capito gli vengono retribuite una cosa come 25 30 mila euro a serata e ci sono le persone pieno così che lo vanno ad ascoltare è stato uno dei primi a portare determinati tipi di musica in zone che non si suonava eccetera e anche lì ha avuto successo in quello che faceva ha diverse aziende ha una catena di kebab ha una compagnia telefonica ne ha diverse di aziende ovviamente i progetti possono andar bene possono andar male è il 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 lato dell'imprenditoria che piace meno però di fatto è così ci sono delle cose che vanno bene ci sono delle cose che vanno male lui stesso lo dice questa era un po' la storia di Vacchi scrivi qua sotto se hai qualcosa da dire nei commenti io cerco di allora non penso al mi piace non mi piace penso a livello sempre editoriale di mentalità se può tirar fuori qualcosa lui e questo video dalle persone quindi non me ne frega niente che le persone poi commentino ma sono tutte cazzate poi c'era corona che l'hanno visto gli hanno fatto le foto e allora i cugini non è vero perché l'hanno allontanato gli danno 5 milioni l'anno e portate portatemi le persone che lo conoscono portatemi i bilanci delle aziende con scritte ste cose e poi ne riparliamo va bene io sono Bogdan se ti piacciono questi argomenti persone di successo business soldi business online e quant'altro qua sotto io lascio sempre dei link su quello che facciamo noi campanelle e solite robe noi ci vediamo nei prossimi video ciao